non credibili vabbè mangiamo non ho pure un cazzo da mangiare fermate fermate ti s'innesca sta merda di bomba ti prego no 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 finisce nico stai alizzando sul micro in questa notte oh cazzo non vedo niente guarda mamma senza mani comunque in camera mia puzza tipo di quei biscotti per i bambini plasmo oh ma la quarta volta che incontro questo ma che cazzo è oh nì ma sei secondo sì ma le bambine fanno meraviglia che meraviglia intrattenere visto che di arco non fa niente non fa non fa niente raga niente niente non sei riuscita ad intrattenere il cittone di merda bastardo ho iniziato a parlare di tua madre non posso spaccare vai 30 secondi 30 secondi è semplice come il furtodotto è molto semplice però il bene dalla zona che fai porco io comunque il soggetto mi vittavo cristo oddio mi è morto uno davanti dove davanti a me il remix di avverti la giusta così questo gioco mi fa cagare tutto no abbiamo perso madò e gianni morandi ha vinto la serata cover fla che succede adesso che non sto vedendo fra questo non sa proprio cos'è andiamola a cercare no 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 non mi lasciare amore mio ti amo si sente la musica oh vai a giocare con le barbie che hai contro le barbie che si usano solo per per auto erotismo si infatti che cazzo il cricchetto chi minchia lo caga il cricchetto ove la diark assaggiare assaggiare ma come si scrive assaggiare cioè io è possibile che io non so scrivere neanche assaggiare ah poi ragazzi se volete entrare sul discord a parlare cioè non adesso però in generale se volete entrare sul discord ahhh succhiami il sottopalla se volete nico io stavo dicendo una cosa seria veramente stavo dicendo di entrare a parlare sul discord con noi racchetta direi di più bacchetta tu che dici non lo so se non è di mila no io non mi fido più di te giù devi andare a morire devi andare a morire devi morire porco giro oh il co-cooks clan prenditi lasciali prenditi lasciali prenditi non ci rilascia ma son parlato a mamore sta canzone bastaldi stronti iniziamo a amare coi messaggi che mi mandate vai a fare i capelli ai calciatori della Juve al Torino ma che son scemo mi lo farò un babù in portafoglio voi vede come perdiamo oggi si perde si vince hai vinto sai comunque che sembra un botto Clashmini il micio mi ha fatto vincere bravo micio guardalo è tutto tanto bello micio FONTANA ARIANNA FONTANA ARIANNA FONTANA aspetta che cazzo è successo no sto scherzando subito va bene tutto il tempo che vuole la posto la mia risposta a questo tizio è stata molto bella e concisa che sto dicendo io non mi fida di te dopo quello che mi dici no no ma no ok qua la prossima ruba è una bella oh Porsche oh questa qua sparisce sparisce pure questa no raga ma perché c'è un coccodrillo fighissimo gigante è il mio coccodrillo fighissimo gigante anzi vabbè se lo dici così però cioè nel senso io mi dissocio se dici il tuo coccodrillo ah no nel senso vabbè tanto è il mio coccodrillo giocattolo guarda che bello Nico così è ancora più brutto ti ricordo che sei assi hai perso godo 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 ok vabbè chi cazzo sono sti mongoladi che combattono sentavamo in due quando ho fatto o no antu antu è antu metti antu metti antu io sono confidente vai vai prova 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 sono confidente che 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 non era poltergeist 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 come il poltergeist che cazzo era poltergeist aspetta un attimo attivato aspetta compra oh 100 104 mamma mia 104 ci ho preso tutto tra l'obiettivo vabbè ma mannaggia i miei alert di merda nooo assurdo abbonato ma che tu sei pazzo tu sei un malatto tu sei un pazzo nooo non dovevi ma che sei pazzo ma che sei pazzo oh ma come fra lui per favore è lui fra un culano parca puttana è lui addio frate è vero c'è un cazzo poi non c'è un cazzo apposta non c'è un cazzo no 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 stavo tu a suonare io ho sentito un suono il pianoforte si ho sentito anche io e io esco aspetta io do piazza del dozzo vai 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 si pia minca che infa oh ma io posso marito mi parto ogni volta scusa perché in questa casa c'è il pianoforte eh penso di nuovo però stavo no raga stavo suonando io ma vaffa ma vaffa ha finito il deck 16 carte nel deck 2 ore esiste a me c'è Cristo ad esempio alcuni che ragazzi dovete followarlo sto cazzo di canale porsi non scassate il cazzo ah hai fatto qua due devi fare io qua due faccio mi chiede mo spawn al demo tre oh gaga oh gaga oh merda oddio c'è una donna oh un hash un hash ti ho ucciso ti ho ucciso si Mike Motta anche te via via vai via sono uscito ma oggi posso credo in chi mi ti ho ucciso ne ero in qui